Poi continueremo con i tempi supplementari. Eniel San! Restano miaghi, è finito. Sì, è finito, ho paura. È finito, voglio andare a casa, non ce la faccio più. Zitto, zitto, non parlare così. Puoi anche perdere contro l'avversario, ma non perdere contro la paura. Ho paura, va bene. Eniel San! Ho paura che andiamo giù a sopra le accidenti. Resta concentrato. Eniel San, tuo migliore carate è ancora dentro di te. Devi solo tirarlo fuori. Riprendiamo il combattimento. Forza, bastardo, torna sulla linea, torna sulla linea, la russo. Non vale niente, il muso giallo non vale niente. Sei un bref, non sei un campione, avanti. Fai schifo, la russo, sei un bidone. E il tuo maestro di karate è merda, mi hai sentito, merda? Sei un favore, mi hai fatto fuori, mi hai fatto fuori, mi hai fatto fuori. Non siete niente, meno di zero, meno di zero. Sono io il tuo padrone, la russo, sono io il tuo padrone. Dov'è adesso il tuo piccolo maestro giapponese? È un buffone, è un merme. Non ti ha insegnato niente. Il tuo karate è merda. Forza, combattimento. Chi farà il punto sarà il campione. Genia, attosta. In quattro. Posizione. Combattimento. Schiazza, botta, finiscilo, botto. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Fai il bordo. Che aspetti, vai. A percussione. Il vincitore. Bravo la russo, straordinario, veramente straordinario. È il primo che ha vinto per due anni di seguito. Il grande campione, Néstor Larusso. Andiamoli, conferevoli.